ciao a tutti e benvenuti su my football jersey io sono stefano e oggi vi presento la terza maglia del saint etienne per la stagione 21 e 22 nella versione fan o replica quella cioè dedicata ai tifosi la maglia completamente nera con tutte le rifiniture in oro molto bello il particolare che sulla manica sinistra e sul fianco sinistro vi sono queste righe che lo differenziano dal fianco opposto lo stemma del club sono ricamati mentre lo sponsor tecnico e il main sponsor sono termosaldati qui vediamo il particolare di una manica appunto tutta nera e dell'altra manica con questa doppia banda oro secondo me veramente molto bello la doppia banda che viene riproposta anche sul fianco relativo sempre alla manica il collo è a v e via questo particolare della bandiera della francia il retro della maglia è completamente nero allora cosa ne pensate secondo me la maglia è veramente molto bella nella mia classifica prende 4 stelle adoro le maglie nere e adoro le maglie rifinite in oro che secondo me sono molto eleganti da portare anche tutti i giorni ora prima di lasciarvi la parte in cui vedrete le misure se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per oggi è tutto alla prossima ciao io sono alto un metro 75 e peso 70 kg quello che vedete una taglia media della versione fan o replica quella cioè dedicata ai tifosi